buonasera a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi stasera andiamo a commentare la partita appena terminata lecco pisa dove il pisa ha vinto per tre reti a 1 bene io direi così lei che la formazione che ha messo in campo il mister oggi mi è piaciuta fin da subito in da subito e la partita oggi era complicata è per noi era complicata perché l'eco veniva una sconfitta quindi è mal classifica è messo messo male insomma nel senso messo presi sui noi e quindi era una partita complicata partita difficile una partita che noi dovevamo cioè dovevamo portare a casa il risultato e così è stato quindi bene la formazione che ha messo che ha messo in campo il mister bene perché mi è piaciuta al posto di voloti è stato inserito veloce perché voloti e insomma non stava non stava bene quindi bene così bonfanti subito dentro fin dall'inizio poi però purtroppo si è fatto male speriamo che non sia niente di grave la piove sempre sul bagnato qua pisa io non lo so come mai una sfortuna veramente insomma con gli infortuni quest'anno siamo siamo veramente al top noi non ci batte nessuno io credo con gli infortuni vabbè detto questo ne aveva partita partita che iniziata ripeto una partita difficile sia per noi che per il lecco le due formazioni si sono sicuramente studiata all'inizio avevano timore si avevano timore sia noi si all'ecco di affondare colpi ma veloce sul calcio piazzato tira una bellissima punizione malgrati e malgrati non non ci può fare nulla perché la punizione era è stata veramente veramente battuta bene anzi benissimo al nostro veloce e pisa si porta in vantaggio per una rete a zero nel primo tempo finisce così insomma alla fine non ha fatto niente l'eco poco e niente e quindi noi abbiamo siamo contenuto la situazione nella ripresa avviene tutto nella ripresa nella ripresa dove noi andiamo in in vantaggio per 2 a zero perché poi viene annullato il gol all'eco per fuorigioco fuorigioco che c'era e quindi niente buso prende la traversa prende la traversa attraverso e poi come dico sempre io sono gol non fatti è come se fosse finita la tribuna poi alla fine non cambia niente bene quindi da alessandro parte in contropiede che serve in mezzo all'area dove c'è calabresi che non si fa pregare e in sacca e siamo su 2 a 0 bene poi purtroppo 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 nell'area avviene l'inverosimile c'è nel senso calabresi di schiena era già abbraccio largo e quindi viene giustamente concesso il calcio di rigore dove come l'epore in sacca e siamo all'82 era un momento di spinta per per il lecco momento di spinta io avevo tra l'altro anche veramente paura perché insomma le cose giocatori e ne ha comprati 8 e ne ha schierati abbastanza oggi quelli che anche ha comprato ma non gli è bastato anche perché veloso parte e serve tour e tour e intelligentemente da maclart e malacca non sbaglia oggi la car non sbaglia e segna ed è il 3 a 1 a questo punto a partita io ho detto beh questo punto è finita è infatti si abbassa la sala cinesca bene che dire dire questo dire che alla fine della cara si è visto poco ma si è visto nel momento importante quello deve fare centro avanti nel momento importante deve venire fuori e non deve sbagliare e così oggi ha fatto quindi sto ragazzo siamo già alla seconda rete speriamo che si sblocchi anche lui e che ci regali altre altre reti oggi da alessandro una buonissima spinta abbiamo visto oggi veramente tanta tanta roba bravo veloce che alla fine ha insaccato la punizione di una punizione che comunque andiamo a vedere nicolas 6 oggi bene calabresi io direi sette e mezzo nonostante abbia causato il rigore però a non solo ha fatto la rete ma poi oggi in difesa si è dato veramente da fare da fare tanto e ha fatto delle bellissime cose quindi io direi sette e mezzo anche perché sul rigore e secondo me era proprio c'è nel senso non si può dare colpe io credo ecco perché stava stava colpa in testa e girato di schiena vabbè può capitare ma c'è un braccio largo è vero ma anche perché se non si sarebbe sbilanciato secondo me ok quindi io direi calabresi sette e mezzo caracciolo 6 bene bene difesa bene oggi canestrelli 6 ha avuto purtroppo quel contatto con nicolas ma involontario cercava di insomma di prendere la palla probabilmente non si è accorto e steves bene 6 e mezzo bene steves perché è propositivo a centrocampo smista smista palloni quindi io direi benissimo veloce oggi direi 8 perché parte la parte a parte al di là della bellissima punizione calciata che ha fatto rete ma poi ha lanciato turi e che poi turi e ha passato a malaccare eccetera eccetera quindi io oggi a veloce gli do 8 arena arena 6 e mezzo sì mi è piaciuto ma a me è piaciuto il giusto insomma poteva forse forse arena a fare qualcosa in più però bene benissimo certo si può fare si può fare sempre meglio però alla fine va bene così marine 6 si bene a centrocampo smista palloni anche lui per i compagni preso l'ammunizione che secondo me era evitabilissima poi sono arrivata certo punto non so fino a che punto però va bene così torregrossa bene oggi sei e mezza torregrossa perché anche lui è una colonna portante è come trequartista abbiamo visto che oggi torregrossa mi è piaciuto poi a di là del stato sostituito eccetera eccetera però però bene bene da alessandro da alessandro sette e mezzo da alessandro veramente un motorino sulla fascia è propositivo in tutte e per tutte poi e poi è stato l'assista fatto l'assist per per il gol di calabresi è partito da solo centrocampo bene ha sfruttato bravi ragazzi che sono riusciti a sfruttare la ripartenza questo ci vuole sfruttare le occasioni sfruttare le ripartenze oggi veramente veramente bene 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 bonfanti io gli direi darei un se a bonfanti fatto male è nel senso però nei primi minuti non si è mosso male la car la car 8 io mi sento di dare 8 a sto ragazzo perché perché bene entrato bene entrato ho toccato un po di palloni bene e poi e poi ha preso la palla e attirato cioè ha concretizzato quello che doveva essere concretizzato bravo mi è piaciuto mi è piaciuto veramente quindi ben tur e 77 io spero che sto ragazzo non so se si verrà dato via o meno io l'ho visto bene oggi pure è veramente in salita salita veramente in salita darlo via non lo so se se forse sarebbe il caso di tenerlo e fanno giocare io credo che non so non so se è la mossa giusta quello dando viature non so io comunque ma io lo terrei ecco magari dare via qualcun altro ma io lo terrei lissandro tramoni sei bene però un po un po disattento su certe occasioni e non preciso su altri comunque a sufficienza piena ermans e barbieri senza voto perché sono entrati diciamo così per blindare il risultato all'ultimo a cui lani ha fatto la mossa di metterli dentro secondo me ha fatto bene ha tolto da alessandro che va bene così perché non diceva cioè nel senso era inutile anzi mettere giustamente un po i difensori sicuramente mossa giusta oggi al predestinato si prende un bel 6 e mezzo quasi 7 ma diciamo diciamo un 7 oggi a aquilani via un 7 perché oggi anche i cambi tour e cambi giusti formazione iniziale giusta bene così bene così ci voleva ci vuole questa cosa qui deve c'è nostro il nostro allenatore deve mettersi nella testa che questa è la via questa è la via non ce ne sono altre vie non ce ne sono altre questa via questa è la squadra questa la formazione poi veloso valoti d'accordo pure quando è necessario siamo d'accordo però da alessandro arena bonfanti sono sono giocatori la cara limiti giocare con due punte non lo so però questi sono giocatori che secondo me non vanno toccati non vanno toccati la difesa oggi bene quindi bene così va bene così c'è nel senso va bene così ecco c'è inutile sta qua calabresi l'occorrenza barbieri quello che è però va bene così poi un occhiata un'occhiata al tabellino e con questo va bene poi le conclusioni finali allora le statistiche dicono questo che sicuramente il piso ci ha tirato di più ti importa sei per noi 4 per il lecco 14 tiri per noi e 14 per il lecco ma alla fine noi ci abbiamo tirato di più in porta detto questo io come come stavo dicendo prima in conclusione la chiudo conclusione e discorso qual è discorso è che noi oggi dovevamo vincere e abbiamo vinto per toglierci veramente da una situazione imbarazzante giù un basso è veramente una situazione diciamo così rovente quindi noi con la vittoria ci siamo diciamo così abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo e quindi va bene così oggi ragazzi il terzo tempo non lo possiamo fare non lo farò perché Matteo non c'è ma durante la settimana vediamo di organizzare qualcosa d'accordo anche perché in vista di pisa spezzi partito ostica partito difficile non passerà una partita con mister d'angelo dall'altra parte e quindi sarà una partita difficile una partita che no io spero di vincere vincere alla grande ma per parte vari motivi non di tifoseria eccetera ma vincere per consolidare la posizione e per arrivare al più presto ai punti salvezza quella me mi interessa non mi interessa pre off e non mi interessa niente quello che mi interessa arrivare al più presto ai punti salvezza e stare tranquilli ok bene io se vi è piaciuto questo video pollice su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima